GF VIP, sondaggi sull'eliminazione del 27 Tavassi e Donna Maria a rischio uscita. Chi sarà il prossimo eliminato dal Grande Fratello VIP 7 del 27 febbraio? Una nuova puntata delle reality show. Condotto da Alfonso Signorini, sarà in onda questo lunedì, in Prime Time, su Canale 5, una puntata che si preannuncia densa di colpi di scena e sorprese. Al centro dell'attenzione, infatti, ci sarà in primis il verdetto del televoto settimanale. Il quale prevede l'addio di un altro concorrente dal cast di questa seguitissima edizione delle reality show. Nel dettaglio, quella di lunedì 27 febbraio, sarà una puntata particolarmente attesa dal pubblico perché prevede un'altra eliminazione definitiva dal cast. Col passare delle settimane, il gioco si fa sempre più duro per i concorrenti che sono riusciti ad arrivare alle fasi finali dello show e tutti i vipponi vorrebbero arrivare fino alla fine di questa edizione del GF VIP. I concorrenti di questa settimana a rischio eliminazione dalla casa sono Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Nikita, Antonella, Nicole, Nicole e Oriana. In attesa del verdetto finale che sarà stabilito dal pubblico attraverso il televoto. Spopolano i sondaggi social e web sull'eliminazione di questa settimana. Al momento, tra coloro che non dovrebbero rischiare l'uscita dal cast spiccano i nomi di Oriana, Antonella e Nikita. Tutte e tre le concorrenti risultano molto forti e amate dal pubblico social, motivo per il quale non dovrebbero essere fatte fuori. Situazione diversa per Edoardo Donnamaria, Tavassi e Nicole Murgia, nei sondaggi ottengono il minor numero di consensi. Motivo per il quale tra di loro potrebbe esserci il prossimo eliminato dal gioco. In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e chi sarà il concorrente ad avere l'appeggio questa settimana. Continuano gli ottimi ascolti del GF VIP su Canale 5. Con il ritorno della doppia puntata serale, il reality show Mediaset ha visto crescere il suo bacino di spettatori che, ormai, supera abbondantemente la soglia dei 3 milioni di spettatori nella fascia di prime time. Con uno share che oscilla tra il 19 e il 22% a settimana, il GF VIP conferma di essere uno dei prodotti di punta della programmazione Mediaset. La cui messa in onda al momento è prevista fino al prossimo aprile. Tuttavia, in una recente intervista, Signorini ha già confermato che ci sarà anche l'ottava edizione delle reality show, la messa in onda è prevista nel corso della prossima stagione televisiva e al timone del programma, è confermata la presenza del giornalista. Grazie a tutti!